Un atto dovuto che rischia di minare la tranquillità del ritiro di cascia e compromettere le operazioni di mercato. Stavolta ad azionare gli inquirenti della giustizia sportiva è stata la procura della Repubblica di Palmi dove il 29 maggio scorso scoppiò il caso Moneygate. Nell'ambito dell'inchiesta promossa dalla Guardia di Finanza finirono agli arresti domiciliari l'ormai ex presidente giallorosso Giuseppe Cosentino e la figlia Ambra. Pesantissimo il capo di imputazione costruito nei loro confronti. Associazione per delinquere aggravata alla transazionalità finalizzata alla commissione di reati di natura fiscale, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e appropriazioni in debita ad ingenti somme di denaro. Al margine però il procuratore della Repubblica calabrese Sferlazza dichiarò che si stava valutando anche l'eventuale sussistenza di elementi in ordine al tentativo di aggiustare la gara del 5 maggio 2013 tra Catanzaro e Avellino ove fossero emerse delle responsabilità come da prassi gli atti sarebbero stati inviati alla giustizia sportiva. Cosa puntualmente avvenuta la scorsa settimana? Da qui le prime convocazioni partite ad Oras davanti agli inquirenti della FIGC. Nel giro di tre giorni il calendario è stato quasi esaurito. Mercoledì scorso è toccato al direttore sportivo Biancoverde Enzo De Vito, ieri al DS dei Calabresi Armando Ortoli e alle 13 di oggi al presidente Walter Taccone che sarà scortato dall'avvocato di fiducia Edoardo Chiacchio. Successivamente sarà la volta di Andrea Russotto, ex calciatore giallorosso accusato di aver volontariamente sbagliato due gole del presidente Cosentino. Secondo l'accusa, come detto, i 5 sarebbero accordati per far finire in pareggio la partita e conseguire i rispettivi obiettivi. Gli accordi sarebbero saltati per il mancato rispetto degli stessi da parte dell'Avellino. A far destare i sospetti sarebbe stata un'intercettazione telefonica tra il presidente del Catanzaro Giuseppe Cosentino e un amico avvenuta a fine partita. A rivedere il film della partita però emerge una clamorosa discrasia. A fallire le due chiare occasioni da rete infatti non fu il Russotto sostituito dopo 56 minuti, bensì il numero 9 indossato da Masini. Particolare che l'avvocato Edoardo Chiacchio, legale del club Irpino, questa mattina metterà in evidenza unitamente al fatto che non esistono prove dirette al fine di scongiurare il deferimento che condurrebbe al processo con un capo di imputazione da brividi. Gli articoli 7,1 che riferisce dell'illecito sportivo e il 18 del codice di giustizia sportiva prevedono infatti la retrocessione all'ultimo posto. Eventualità a cui guardano con attenzione per salvaguardare il loro diritto di terzi, proprio la Vibonese e il Trapani, entrambe in caso di deferimento potrebbero ricorrere al ripescaggio confidando nei guai giudiziari di Avellino e Catanzaro. Grazie a tutti.